Una mini gang, una banda composta da almeno 5 persone, potrebbe essere la responsabile della devastazione all'asilo di Camucia. Questa è una delle ipotesi che si sta facendo strada per l'atto vandalico avvenuto durante le festività pasquali nella struttura della Val di Chiana. Alcuni vandali infatti hanno devastato le aule e il materiale didattico, hanno divelto ed azionato gli estintori, hanno spaccato vetri e specchie ed infine hanno imbrattato tutto con del pomodoro. Insomma un vero e proprio scempio, un danno da oltre 30.000 euro. Proseguono senza sosta al momento le indagini dei carabinieri di Cortona diretti dal capitano Monica Dallari con la collaborazione del maresciallo della stazione di Camucia Gianluca Falco alla ricerca dei responsabili dell'atto vandalico. Resta ancora stretto però il riservo degli inquirenti. I militari dell'arma avrebbero analizzato attentamente le tracce lasciate all'interno della scuola, acquisito i filmati delle telecamere di video e sorveglianza private nei pressi del plesso. Sarebbe stata fatta anche un'analisi delle celle telefoniche agganciate in quella zona nelle ore in cui si sarebbero svolti i fatti. Infine i militari hanno ascoltato numerosi testimoni che quella sera potrebbero aver visto o sentito qualcosa. I responsabili potrebbero essere già stati individuati, non si esclude al momento il convolgimento di minorenni. Intanto i bambini che frequentavano la scuola restano ancora a casa, circa 140 tra scuola materna e asilo nido. Il prossimo lunedì sarà aperta l'ala che ospita la scuola materna, per il nido invece i bambini saranno trasferiti temporaneamente in un'altra struttura.